E' stato trasportato all'ospedale San Biagio di Domodossola con fratture e ferite di media gravità. Il motociclista ha coinvolto questa mattina a fondo toce in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale di Verbagni, ha giunta sul posto per i rilievi l'auto di un turista tedesco di 39 anni, che alloggiato in un camping mentre viaggiava verso Gravellona, ha girato verso la carrozzeria Mazzi. Per cause ancora al vaglio è finito contro una moto condotta da un 27enne di Verbagna che sopraggiungeva sempre verso Gravellona. Nell'impatto il ragazzo è finito prima sopra l'auto e poi a terra. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto preoccupanti, ma il personale del 118 lo ha stabilizzato sul posto e poi è stato portato subito a Domodossola. Per lui frattura del polso e diverse lesioni.